allora adesso io finisco di mettere tutti tutti e quattro litri di olio poi dopo passo a montare il termostato dopo aver messo l'olio nel motore mi sono un po vantaggiato quindi ho messo un po di silicone qui sul gommino qui abbiamo le fascette nuove per i tubi i due bulloncini con la testa da 10 le ho già spazzolati che erano sporchi e questi qua mi hanno chiesto in un video perché non avevo stretto il termostato con la dinamometrica allora per esempio per assurdo questa macchina qui la coppia di seraggio per queste due vitine qui non c'è scritto considerando che sono uguali alla quelle della pompa dell'acqua diciamo che si possono stringere intorno ai 10 newton metri quindi a questo punto sul termostato ci manca questo pezzettino qua che praticamente va solo incastro dentro non lo danno nuovo quindi bisogna per forza utilizzare il vecchio e noi faremo faremo così metteremo il vecchio intanto adesso proseguiamo poi per quanto riguarda qui il raccordo con la chiave da 22 me lo sono già preparato pulito e spazzolato con le due rondelle nuove quindi a questo punto dobbiamo solo montare andremo a mettere una fascetta nuova qui l'altra la mettiamo qui sul piano lì ho già pulito e adesso piano piano senza toccare da nessuna parte perché vi ricordo che ci ho messo un silicone vado prima a inserire nel tubo che lì ok perfetto e fin qua ci siamo poi piano piano sempre senza toccare da nessuna parte mi porto vicino ma però sarà meglio che le viti sotto mano se no mi porto vicino alla testata intanto già messo qui la vite sulla chiave vado a inserirne il buco in alto del termostato e cerco di andare a beccare il buco perché io non lo vedo ma l'ho già beccato poi vado a centrare quest'altro buco sotto ok è andato anche questo poi senza stringere o prima di stringere devo andare a mettere qui il raccordo e che può succedere che stringo il termostato e poi qui il tubo non si trova siccome che è un tubo talmente rigido che non si muove sarà bene che io mi vado a preoccupare adesso di mettere una rondella dietro qui il raccordo davanti e provare a stringere ad avvitare così come ho fatto adesso quando il termostato simone praticamente il termostato si deve muovere per impuntare la vita quindi questa è un'operazione qui che bisogna fare così magari stringendo il termostato poi dopo ci va anche il raccordo però io per evitare che dopo mi tocca allentare di nuovo il termostato io faccio questa operazione qui tanto non mi costa niente le due viti le ho già avvicinate e adesso che vediamo del tutto ecco qua poi dopo con la chiavettina mi porto un po ecco qua quasi a stringere ma non stringo perché ci do il colpo con la dinamometrica la dinamometrica l'ho messa a 10 newton e per due vitine così crede che basti ecco qua 1 e 2 a questo punto qui mi porto avanti la fascetta di questo tubo che eccolo qua se l'avevo portato indietro per comodità ecco una sette snodata incomincia andare avvicinare mi assicuro che in posizione giusto più che altro è che in una posizione che non mi dà noia ma io credo che qui è proprio l'ideale ecco qua queste strette poi abbiamo queste due spine quindi andiamo a collegare la prima che va sul termostato qui rivolto così in alto sposto perché sono non vedete niente ecco qua dopo aver inserito la spina spingo dentro questa parte qui in giallo si vede perché la lago pro mi si spegne il display non vedo ecco qua dopo aver inserito dentro anche qui la sicurezza questa via questa gialla a questo punto qui posso andare a mettere tranquillamente il tubino ma il tubino è quello che dovevo metterci il suo cosino in plastica che per per toglierlo bisogna andare a schiacciare i due costantini qualaterale vi ricordate come quelle del che stanno sui filtri del gasolio e non solo anche quel benzina e qua ce l'abbiamo presente sull'acqua quindi per toglierlo bisogna schiacciare i due pulsanti contemporaneamente del sinistra permettono invece bisogna soltanto spingere dentro qui anche qui fascetta nuova su questo tubo qui e anche qui lo mettiamo in una posizione dove la fascetta non dà fastidio a nulla quindi a questo punto qua io me la stringo in questa posizione ecco la snodo ci vado dietro così perché giustamente bisogna pensare anche a quello bisogna mettere le fascette che non diano fastidio ecco qua la mia stessa certamente dure però queste qui sono quelle fascette buona 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 ok stringere ancora un po ecco qua stretta anche questo a questo punto posso andare a mettere anche questo tubo qua e la fascetta però questa facetta qua me la metto in questa posizione che mi è più comodo per andare a stringere quindi dentro e anche qui vado a stringere con la sette snodata è la fascetta me la metto in queste posizioni a questa posizione qui che secondo me l'ideale mi dispiace che non vi ho fatto vedere lo smontaggio però mi sto rifacendo che vi faccio vedere il montaggio ecco qua stretta anche questo senza esagerare a sto punto qui potrei andare a stringere il raccordo qui da 22 senza esagerare tanto ci sono le ronde le nuove se per sfiga perde e noi lo stringiamo ancora un po cimica problema allora questo punto qua andremo su con l'ultimo che sarebbe la spina che una volta che andremo a fargli fare il suo il suo click vediamo se lo fa ecco qua ripidiamo la sua sicurezza praticamente era proprio qua ecco fatto a questo punto qui cosa ci rimane praticamente ci rimane ben poco io sto dando un'occhiata ma quanto pare qui abbiamo finito e quindi io adesso cosa faccio invece di andare a mettermi il tubo che sarebbe quello lì mi vado a chiudere prima la parte elettrica vi ricordo che questo qua questa cosa in plastica questa vaschetta praticamente era messa in questa posizione sotto i cavi e all'interno c'ha dei buchi c'è 1 2 3 4 che ci vanno dentro questi bottoni a pressione a guardate praticamente bisogna infilare dentro poi dopo chiudere e vi posso garantire che già per togliere questi bottoni qui non è stato subito subito facile praticamente questo coso qui in plastica come dicevo va sotto all'impianto elettrico perché poi a sua volta l'impianto ci va dentro quindi passando in queste cannellini qua diciamo ma bisogna portare quella plastica in fondo perché qui ci sono poi i buchi in corrispondenza vedete dove io poi dove devo andare a chiudere con cui bottone vabbè intanto vedete già ho fatto un po di innastrata ho messo qua qua e poi ho intenzione di fare qualcos'altro e qui si sono attaccati con questi possibili perché ce ne sono due perché sta macchina praticamente all'impianto gas e qui è proprio qualcosa inerente al gas vabbè prima di andare a chiudere vi volevo far vedere i cavi che ho una strato quindi da qui poi ogni singolo calcio sotto qui poi dopo sono andata a collegare le spine che sono passato qui che sono questa nera questa marrone questa blu è quella grigia dietro quindi a questo punto qua io sono già pronto sono già pronto per andare a chiudere qui la porta fusibili qua purtroppo si sono collegati qui con dei fusibili quindi purtroppo sto roba qui io devo cercare di farla passare un po meglio possibile ma sto casino qui di fusibili ci rimane questa acqua in questi buchi qua quindi uno qua 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 in modo che che fa questo movimento qui poi dopo poi invece va a incastrare su questi dentini qua quindi ho finito come faccio passare qui dentro qui diciamo che tutto questo passaggio qui è tutto originale mi fa schifo stati fossibili qua la verità comunque lì non c'entro niente io poi ci abbiamo la fascia per chiudere la restringe la batteria che abbiamo il negativo di qua e positivo di qua dopo aver montato anche la batteria e il tubo guardate che il tubo come faceva notare prima parte da qui poi c'è questa curva qui che va innestato qua dentro infatti se vedete ci sono le fascette nuove poi scende qui dietro qui c'è un dadino con la chiave da 10 un altro dadino c'era qui e poi dopo va innestato nel tubo che lì sotto lì qui ovviamente ci ho messo del grasso ramato su tutti e due poli quindi possiamo chiudere nel frattempo ho già messo l'acqua ok e nel motore ci ho messo tre litri e mezzo quindi come sono abituato sempre io e come di norma dovrebbe essere dopo che mettiamo in moto si riempie il filtro poi dopo alla fine faremo il livello vi volevo far notare un'altra cosa siccome che qui adesso io vorrei fare gli vorrei cambiare uno dei freni no vi volevo far notare visto che ne abbiamo parlato tantissimo vi volevo far notare l'olio dei freni dove si vede con senza la luce meglio senza forse meglio senza allora se vedete il livello dell'olio dei freni è qua giù ok il massimo è qua sopra quindi se vi ricordate bene che io ve l'ho detto in qualche video che quando l'olio dei freni è basso vuol dire che c'è un problema infatti a questa macchina questa macchina a parte che c'ha leggermente le pastiglie dei freni consumate davanti ma non consumate nel senso che sono da cambiare fanno ancora camminano ancora forse saranno andiamo a vedere eccolo qua guardate c'è ancora del ferodo praticamente ne ha circa il 30 per 35 per cento quindi questa qua camminano ancora fanno ancora dei chilometri ma il fatto è che l'olio dei freni è basso perché ci vogliono dischi e pastiglie posteriori perché sono proprio sono consumate quindi quando poi andremo a cambiare dischi e pastiglie dietro poi dopo andremo a fare anche lo spurgo dei feri quindi gli cambiamo l'olio dappertutto e qui sul cambio c'è il cilindretto della frizione eccolo lì poi quello lì lo faremo da sotto adesso io ho aspettato voi perché dobbiamo fare l'avviamento e come vi dico sempre io visto che adesso non ho ancora messo in moto quindi bisogna che si deve riempire il filtro dell'olio sentirete il rumore del motore perché appunto il filtro è vuoto quindi magari vi posiziono qui e vi faccio sentire il rumore quindi questo è il primo avviamento che faccio è dopo aver sostituito la cinga di distribuzione orecchio sentito che è sparito allora adesso visto che l'acqua deve andare in circolo cosa faremo metteremo tutto caldo accenderemo l'aria senza clima è quindi soltanto riscaldamento terremo d'occhio la temperatura aspetteremo che deve partire la ventola aspettiamo che riparte alla ventola quindi mentre la macchina si riscalda dobbiamo tenere d'occhio qui macchina che esce l'aria calda perché l'aria calda ci sta a indicare che l'impianto è pieno ok ma se per esempio l'impianto non si riempie quindi cosa succede sale la temperatura qua continua a uscire acqua aria fredda vuol dire che l'acqua non sta circolando e quindi è cosa succede può succedere che la tempra va oltre 90 e non si attacca la ventola quindi bisogna fare attenzione a sto punto cosa faremo visto che voi ero mai mi conoscete prenderemo un bel pennarello e andremo a fare un segno qui nella ventola non so tipo qua ok mi sono fatto il segno lì così se per caso non sento la ventola che è partita perché magari sto facendo un'altra cosa almeno così riesco a capire che ha girato tutto qua quindi visto che abbiamo appena messo in moto buttiamo un occhio qui adesso poi che ci manca il coperchio è la copertura quindi qua è tutto aperto quindi bisogna prestare attenzione ecco bisogna starci dietro però per il momento qui è tutto a posto ma deve essere così ci mancherebbe il mio olio non ne perde acco non ne perde per il momento speriamo che rimane così io direi che a sto punto qui aspettiamo che parte la ventola aspettiamo che parte la ventola però potremmo cominciare a smontare le ruote dietro perché dobbiamo andare a fare dischia passiva per accelerare i tempi io ho alzato la macchina ho smontato una ruota ho portato qui la scala perché ogni tanto dobbiamo andare a vedere la temperatura e qui già c'è aria calda e la temperatura già quasi a 90 quindi in teoria tra un po dovrebbe partire la ventola ma mi sono già preparato tutto quanto e possiamo proseguire andare a smontare pinze e disco allora qui abbiamo una di quelle pinze che bisogna spingere con l'attrezzo quindi procediamo già andare a svitare le due vite da 13 è qua non c'è bisogno di mantenere con l'altra chiave perché fatto in un modo che praticamente sta fermo da solo il pistoncino vi ricordate quello che va avanti indietro ok ecco qua praticamente questo è il pistoncino è fatta esagonale qua davanti no nemmeno a 22 facce due tagli che vanno qui si si bloccano qui c'è uno scalino e quindi praticamente non ruota si riesce a svitare tranquillamente la vite o in quel caso lì anche da abitare le pastiglie sono belle consumate proprio come piacciono a me quasi fino all'osso vedete non c'è più niente quindi questo qui ha avuto un ottimo consumo ma io non ho ancora visto qui il materiale allora qui c'è il disco i dischi qui c'è un libricino dove vi fa vedere un po più o meno a qui che fa vedere proprio il montaggio giuro che non l'ho mai visto è la prima volta che lo vedo ma non mi interessa allora questi dischi sono quel tipo di dischi che non hanno la protezione quella grigia intorno che non va al tolta questa qui praticamente basta soltanto dopo dagli una sgrassata e montarli basta pastiglie io sono già pieno di zanzare pastiglie vediamo un po se ci hanno preso allora pastiglie allora ci hanno preso certe che ci hanno preso allora vi volevo adesso vi faccio notare una cosa che ve ne ho già parlato in qualche video sulla pastiglia c'è questo dente qui ma ce l'hanno tutte e quattro vedete quindi non si può sbagliare quindi cosa succede che quando noi andremo a mettere la pastiglia vi ricordate che è capitato in un altro video che quando io vado a indietreggiare il pistone qui della pinza quindi lui ruota ed entra poi alla fine bisogna lasciarlo con questo spazio qui con queste con queste tac con questi ritagli non so come dire con questo vuoto perché lì ci va proprio il grano che è dietro la pastiglia quindi se uno sbaglia a lasciare il pistone in un'altra posizione dopo la pastiglia non 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 lavora bene ma secondo me non si riesce neanche a chiudere la pinza secondo me è questa la possiamo mettere anche da una parte tipo così che non dà fastidio e non succede niente non si piega niente non si rompe niente non abbiate paura perché ci penso già che qualcuno mi dice qualcosa allora poi qua abbiamo due bullone da 17 quindi ecco qua allora qui la ventra non va ma normalmente come prima volta è sempre un po più lungo a partire ecco qua questo facciamo qua vivete lasciamo qua poi io mi sono portato sto frullino qui perché dopo gli voglio dare una pulita prima di montare il disco nuovo con una 12 aperta e chiusa andremo a togliere due viti qua davanti togliamo il disco e lo andiamo a confrontare con il nuovo quindi io lo confronto in questo modo quindi per terra sono alti uguali poi dopo lo giro mi controllo la parte diciamo del mozzo dove va la ruota attaccato e poi infine il controllo l'altezza direi che è proprio lui i bughi combasciano quindi posso procedere al montaggio quindi andremo a fare una bella pulizia qua davanti che è tutto bello arrugginito poi ci metteremo un po di grasso ramato e via perfetto adesso adesso facciamo un'altra cosa andiamo a vedere la temperatura ed è fissa 90 è meglio così diciamo che l'aria dentro è bollente quindi vuol dire che circola vabbè viste che non vuole ancora partire cosa facciamo noi andiamo a mettere il grasso qui vole perfetto andiamo le sue due viti poi veda 12 12 qua allora nelle pastiglie nuove non c'è un bel niente non ci sono neanche le viti nuove quindi pensate un po vabbè qui è pulitissimo non ci sto a fare neanche niente non posso cambiare neanche le piastrine per chi perché nella confezione delle pastiglie non ci sono né vite né piastrine niente non c'è niente qui hanno risparmiato di brutto brutto periodo allora ragazzi vediamo il colpo finale 3 1 2 ok adesso è ora di usare l'attrezzo l'attrezzo visto che qui abbiamo un pistone con due fori a questo punto qui non dovremmo prendere una piattina un disco uno di questi due con il rispettivo dadino rialzo quindi questo grano e io prendo queste che più alto vediamo se ci va secondo me è proprio lui quindi normalmente questo qua davanti che calamitato questa è quella forma della pastiglia quindi lo gireremo così una volta posizionato dentro vado a schiacciare qui e pistone partiti in avanti ma mi sono perso qualcosa vi ricordate che vi avevo detto che quando poi andremo a girare il pistone la cuffia la cuffietta che qua dentro che sarebbe un po da polvere se lei è rimasta attaccata sul pistoncino cosa succede succede che dopo si strappa allora basta mettere un cacciavite dentro come appena fatto basta ecco a fare un giro intorno basta magari gli potete anche spruzzare qualcosa dentro e io a volte lo faccio a volte no dipende come mi trovo adesso non glielo ho messo tanto mi sono assicurate che la cuffietta non è attaccata sul pistone e quindi quando io poi vado a girare non succede niente quindi qui ho messo in pressione da questa parte qui vado ad avvitare e bamba è duro come non so che cosa allora però vi ricordate che io ho detto che ci sono alcune pinze che bisogna avvitare per indietreggiare il pistone ci sono alcune che bisogna svitare per indietreggiare il pistone stranamente ma è così e siccome che qui è duro che non va non vorrei che questo è proprio uno di quello lì quindi cosa facciamo proviamo a svitare prendono a svitare e vediamo se va e si è bloccato un'altra volta quindi ripartiamo in avanti e si è bloccato allora dalla parte deve andare è sì è duro come non so che cosa allora se avete notato sto svittando per indietreggiare il pistone quindi questa pinza qui da questo lato bisogna svitare di là quasi sicuramente è normale quindi bisogna avvitare per portare dentro il pistone allora qui nonostante io ho alzato la cuffietta con il cacciavite ma a un certo punto tende a venirmi dietro quindi a girare col pistone quindi a sto punto no non gli metto lo svito gli metto un po di olio ecco qua mi metto l'olio e continuo a svitare qui perfetto allora scusate ma è arrivato mio collega e quindi ho fatto un attimo una chiacchiere con lui allora io sento già che qui il pistone è arrivato perché si è indurito però io non mi sono fermato subito e l'ho messo in posizione che io dopo quando vado a mettere la pastiglia riesco a metterla quindi secondo me già a posto quindi cosa faccio mollo e verifico secondo me deve girare ancora quindi rimetto l'attrezzo svita ancora un po ecco qua perfetto ragazzi perfetto è come prima quindi questo non ci serve più ma nel frattempo andiamo a vedere la ventola se è partita non è ancora partita allora qui e questo è caldo questo è caldo eccolo è partita l'acqua c'è cosa volete di più della vita un lucano e mai bellissimo ok allora a sto punto andremo a mettere le pastiglie e quando la ventola si è fermata spegneremo la macchina quindi per mettere le pastiglie semplicissimo si spinge dentro e gioco ha fatto o lei e no sapete che mi ha fregato perché se sembra che tutto dietro ma deve andare ancora perché qui non ci va quindi qual è il problema e noi spingiamo vediamo è allora 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 tac vediamo è se la faranno i nostri eroi ma fregato ragazze pensavo che era tutto ma invece a quanto pare deve andare ancora mi sa che stavolta è dentro quindi cerchiamo di mettere dritto controlliamo ancora un po quindi perfetto vediamo se va la pinza tra e pinza sia le viti purtroppo le vecchie mi sono dimenticato di fare una cosa vediamo un po' di chi è che di voi indovina bisogna un po' sgrassare quindi straccio pulito e uno e uno e due adesso si uno due Questa è un po' di più. e 1 le due a questo punto cosa mi rimane ve lo dico io di dare una pulita qui nel cerchio che bello sporco allora questo qui c'è un anello dentro però un po di è un po incrostato sopra buona così si fa non come fanno alcuni che mettono la chiave sulla pistola e poi questa ventola com'è che non si spegne vole 2 3 4 bene allora di qua abbiamo già fatto dischi e pastiglie dall'altra parte non ve lo faccio vedere perché sennò altrimenti il video viene lunghissimo nel frattempo do un'occhiata come mai non si spegne sta ventola e ci vediamo tra un po' è tempo di montare dischi e pastiglie anche dall'altra parte ho messo sulla ruota andiamo giù perché dobbiamo andare a controllare l'olio dei freni dove è arrivato vi ricordate che ve l'ho fatto vedere che era un po' basso adesso vediamo dove è arrivato è arrivato al massimo vedete preciso al massimo quindi torno a tutto quello che vi raccontavo però come dico sempre io dopo aver cambiato le pastiglie dei freni andremo a pompare sul pedale a questo punto io cosa faccio adesso aspetto che si raffredda il motore per fare sia il livello finale dell'olio motore e sia il livello per quanto riguarda l'antigelo ma nel frattempo andremo a fare lo spurgo dei freni e della frizione andiamo intanto io ho già preso lo spurgo dei freni questo qui non ve l'ho fatto vedere l'altra volta ma praticamente è un tappo che appartiene allo spurgo dei freni che va avvitato al posto di questo qui c'è stato qualcuno che mi ha chiesto se io quando faccio lo spurgo vado vado a svuotare la vaschetta qui allora diciamo che per avvantaggiarci uno potrebbe anche andare a svuotarla ma in questo caso visto che io c'ho un macchinino che fa tutto lui praticamente io posso anche lasciarlo lasciare la vaschetta piena ecco a me non mi cambia niente io qui sono pieno di zanzare allora dopo aver collegato il il tubo il tubo sulla vaschetta spiego un attimo veloce per chi non conosce questo attrezzo praticamente questo attrezzo qua lì dentro lì contiene l'olio qui dentro qui si mette l'olio dei freni poi dopo c'è un compressore che spinge l'olio attraverso questo tubo quindi lo spinge nella vaschetta e quindi in automatico quando io vado a aprire i spurghi esce tutto quello sporco nel frattempo entra il nuovo e quindi si cambia tutto l'olio non fa una piega no e dopo aver collegato il positivo e il negativo vado ad azionare il pulsante qui va la impressione e me lo segnala qui e io praticamente sono già pronto per andare su e aprire gli spurghi per spurgare io utilizzo questo questo è da tanto tempo che l'ho fatto e funziona da dio le cose artigianali ragazzi non c'è niente da fare il suo cioè quello che è a corredo ce l'ho ma non mi piace secondo me funzionano meglio queste qua come come tutte le cose le cose artigianali funzionano da dio allora io qui ho già avevo già appoggiato la chiave sopra per vedere che numero era praticamente è la numero 8 per spurgare qui sopra qui quindi partiamo dall'anteriore in tanti mi chiedono qual è la sequenza se partire prima da dietro partire prima davanti ragazzi non lo so io sono del parere che basta che aprite e fate uscire l'olio poi voglio dire no non lo so una volta sì 30 anni fa facevano gli spurghi a croce o davanti poi passi dietro e poi torni di nuovo in avanti io sono del parere e poi magari sbaglio sono del parere che una volta che aprite e fate uscire l'olio abbiamo già fatto no? allora qui stiamo a circa 100 grammi per adesso ok passiamo di qua è bello scuro adesso voi non lo vedete ma è bello scuro poi dopo andremo a fare anche qui quello della frizione che è qui ma una cosa alla volta allora dove siamo arrivati e siamo quasi siamo a 200 grammi adesso ok allora davanti abbiamo uno spurgo da 8 mentre dietro ce l'abbiamo da 11 allora qua quindi andremo a mettere la chiave qua andiamo ad allentare ecco qui ovviamente è in una posizione che si fa fatica ad arrivarci ma c'è la farema ecco qua ho già aperto e non riesco neanche più a mettere la chiave per fortuna che va anche con le mani è bello scuro ragazzi vi posso garantire che è bello scuro mi dispiace che voi non vedete altre volte mettevo la lampadina dietro ma ho notato che comunque non è che non è la stessa cosa come vedere da con gli occhi proprio ecco a vedere attraverso un video con la luce dietro non si notava che sa cosa comunque l'importante è che lo sto vedendo io che è bello scuro allora fino a ora siamo a 250 arriveremo non so a 300 grammi ok andiamo a chiudere niente qui è proprio che la chiave non ci sta niente questa non ci va ok dobbiamo staccare il tubo e gli diamo ops mi è caduto il bussolotto per terra andremo a darci il colpo finale ole poi passiamo di qua ah mi sono tutto sporcato vabbè inseriamo il tubo ok andremo a rallentare ok andate anche questa ce la faremo ce la faremo vabbè intanto l'oro sta già uscendo eh sì esce esce anche nero mamma mia bello nero esce esce bello nero ok direi che possiamo chiudere ma pensa un po' che vanno a fare certe cose ok diamo il colpo finale ok e adesso passiamo alla cilindretto frizione che è qua però siccome che è in plastica e qui si muove tutto bisogna fare bene attenzione quello che facciamo scusate ma è caduto lì in terra è uscito tutto l'olio fuori e sto coso qui è tutto bagnato allora io farei che vado prima ad allentare vediamo un po' eh olè ci sono riuscito quindi 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 innestiamo il tubo provo a aprire questo mi sa che sto spunto qui bisogna allentarlo un bel po' per far uscire l'olio subito subito non esce e noi lo faremo ecco guardate sto già girando ma non esce ancora niente speriamo che non che non viene fuori di colpo e mi faccio il bagno ecco qua sta uscendo esce 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 nero nero sì sì bamba mi dispiace che secondo me voi non vedete ragazzi ma vi posso garantire che è bello nero allora diciamo che siamo più di 400 grammi un po' mi è caduto la terra diciamo che secondo me 500 grammi sono venuti fuori a sto punto qui direi che posso anche e incominciare a chiudere olle sperando che avete visto almeno qualcosa ok perfetto direi che ci siamo stringiamo ma tengo con due mani ok stretto e stretto intanto qui possiamo chiudere scarico l'impianto e anche lo spurgo è finito ragazzi io mi fermo qua perché sto video è venuto bello lungo e come dico sempre io siamo arrivati alla fine anche di questo video io vi invito sempre a scrivermi al mio canale di attivare la campanellina se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e noi ci vedremo al prossimo video ciao a tutti